Per cuocere le tagliatelle, prendere una pentola e una padella e mettere un po' di acqua nella pentola e accendere il fuoco per fare bollire l'acqua. Prepariamo poi la salsa per la pasta. Io faccio le tagliatelle con il pesce, con gamberi, vongole e zucchine. Mettere l'olio nella padella e scaldare l'olio. Quando l'olio è caldo, mettere il pesce o la salsa. E cuocere per 10 minuti. Aggiungere un po' di beve e un po' di sale e mescolare. Aggiungere un po' di vino bianco. Ora aggiungere il sale. Uno Due E mescolare. Ora prendere le tagliatelle e mettere nell'acqua. Opla E cuocere per pochi pochi minuti. Due Aggiungere il fuoco e scolare le nostre tagliatelle nella salsa. Mescolare la pasta con la salsa. Mettere la pasta in un piatto o in una ciotola. E voilà! Il piatto è pronto! Buon appetito! Ciao! Benvenuti nella mia cucina. Mi pare c'è un pallino. Ciao! Benvenuti nella mia... Vai! Ciao! Benvenuti nella mia cucina. Oggi cuciniamo la pasta fatta in casa. No, cucinavo. Facciamo. Ma che cucinavo? Oggi facciamo la pasta fatta in casa. Una ricetta tipica. No, una ricetta. Queste sono le dosi per due persone. Ci vogliono 400... No, 400. Ma come fare la pasta fatta in casa? Prendere la ciotola, prendere la farina e mettere la farina e mettere la farina nella ciotola. La parte per fare le tagliatelle. No, questa. No. Via! Per cuocere le tagliatelle prendere una pentola e una padella e mettere un po' di acqua nella padella. Vai! Per cuocere le tagliatelle prendere una padella e... Vai! E voilà! No! Tu sei! Azione! Ciao! Benvenuti nella mia cucina! Oggi facciamo la pasta fatta in casa. Un primo piatto tipico italiano. Sì, però... Guarda, ora basta, eh! È l'altra volta!